Allora stasera noi abbiamo Gianmarco Ciampa, un grande talento del Conservatorio. È veramente un grande talento, è un ragazzo adorabile tra l'altro perché si paga gli studi, si è pagato gli studi insegnando ai ragazzi delle scuole medie, facendo tornei in giro per il mondo e gli ho detto ma come fai a trovare ingaggi? Hai un agente? Ha detto no, 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 io guardo le riviste, vedo dove ci sono i concorsi, vado là, li vinco e li vinco tutti e poi loro mi tengono per un po' di tempo. Adesso parteciperà al Master, però vorrei che la gente che lo sentirà non lo considerasse un giovane, cioè lui è un talento che è già arrivato, ha la sua posizione, è una posizione importante e se mi è consentito questa gentile signora che è vicina a me vorrei spendere una parola sul Conservatorio di Santa Cecilia. È un'istituzione vecchissima, è un'istituzione che raccoglie a Roma 1.557 studenti di 52 nazioni diverse. Io vivo a Milano, il Conservatorio di Milano ha 1.500 allievi ma di una ventina di nazioni, quindi questa è una specie di Nazioni Unite della Musica. Solo che ho trovato una situazione logistica, di stanze, di aule, di cose, ascensori, strumenti, veramente molto vecchi. Quindi un invito che faccio, se viene raccolto da qualcuno, aiutate il Conservatorio di Santa Cecilia, perché io tra un anno non ci sarò più ma il Conservatorio esiste da tantissimi anni. Quindi Roma merita di avere un Conservatorio più bello, visto che i valori che sono dentro sono veramente valori di grande interesse artistico. Intanto siamo qui a Lungotevere, a Lungotevere Roma, che si apre proprio con i ragazzi di Santa Cecilia. Vogliamo fare un augurio? Oh, assolutamente. Io lo faccio a loro, tra l'altro si apre con i ragazzi e continua con i ragazzi, perché tutto il programma musicale sarà curato dai ragazzi, dagli studenti, dai diplomati di Santa Cecilia e la gente che verrà qua si accorgerà quanta varietà di musica, a che livello questi ragazzi sono capaci di cantarla, di suonarla. Perfetto.